Milano, ore 22 di ieri. In via Capecelatro un gruppo di ragazzi tra 17 e 18 anni sta salendo sull'autobus numero 80. Uno di loro tiene le porte bloccate per qualche secondo, il tempo di far salire gli amici. Fate presto, non è un taxi, avrebbe detto loro un 56enne dipendente dell'azienda di trasporti milanese non in servizio in quel momento. Si sente rispondere dai ragazzi, si gira, torna indietro per replicare a sua volta. Un uomo cerca di calmare l'adulto e un componente del gruppo di giovani fa lo stesso con il coetaneo. I ragazzi a quel punto vanno ad occupare i sedili posteriori. Tutto sembra finito, ma il violento epilogo deve ancora arrivare. Dopo le molteplici aggressioni avvenute a Napoli ad opera di baby gang nei confronti di coetanei e di un senza fissa dimora e gli atti vandalici perpetrati nella metropolitana milanese sempre ad opera di gruppi di giovani, sembrava che anche questo caso potesse riguardare una baby gang. Ad estrarre il coltello stavolta invece è stato il 56enne che al capolinea è sceso dal bus insieme ai ragazzi. Da questo momento in poi le immagini delle telecamere di bordo non ci sono più, ma è facile immaginare la rissa che ne è nata. L'uomo ha coltellato ad un fianco uno dei minorenni ricevendo a sua volta qualche pugno. Deve rispondere di lesioni personali aggravate, mentre il minore è stato trasportato in codice giallo al Fatebene Fratelli, dove è rimasto in osservazione, ma non in pericolo di vita.